Presentazione della resina per stampa 3D VARSEO SMILE TRINIC VARSEO SMILE TRINIC rappresenta una piccola rivoluzione ed evoluzione nel panorama delle resine per stampa 3D. Con VARSEO SMILE TRINIC abbiamo una resina che permette una grande versatilità. Il prodotto permette di stampare corone singole o restauri multipli, il tutto in circa 60 minuti. Un'ottima resistenza all'abrasione ed allo stesso tempo è gentile con i denti antagonisti. Un'elevato carico di fattura, più di 1250 N e una lunga durata nella cementazione. L'offerta estetica è di 10 colori della scala colori vita. Il prodotto ha una grande trasducenza e una naturale fluorescenza, semplice da individualizzare e da riparare. Una forza di attenzione sopra lo standard con i vari cementi, una elevata stabilità del colore ed una ottima biocompatibilità. VARSEO SMILE TRINIC permette una versatilità di applicazione. Possibile effettuare ponti permanenti, un elemento intermedio singolo, restauri permanenti di denti singoli, restauri provvisori di ponti fino a 7 unità, restauri di denti singoli supportati da impianti permanenti, restauri temporanei supportati da impianti e denti per protesi. Bego ha sempre prestato molta importanza alla sicurezza biologica dei propri prodotti ed anche con VARSEO SMILE TRINIC la sicurezza del paziente è garantita. Per quello che riguarda la caratterizzazione chimica, le sostanze lisciviabili ed estraibili trovate sono bene al di sotto dei limiti specificati. Per quello che riguarda la citotossicità è stato rilevato che non abbia alcun effetto citotossico. Per quello che riguarda l'irritazione è considerato non reattivo ed anche per quello che riguarda la sensibilizzazione è considerato non sensibilizzante. In questa diapositiva ripercorriamo alcune caratteristiche del prodotto VARSEO SMILE TRINIC Da un punto di vista estetico è disponibile in 10 colori della scala colori vita, colori A1, A2, A3, 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 B1, C2, 0M1, 0M3, B2 e D3. Il prodotto è facile da caratterizzare con colori. Le caratteristiche tecniche riscontrano dei valori di modulo di elasticità e a resistenza alla flessione molto alti. Anche per quello che riguarda l'assolubilità in acqua e l'assolumento di acqua i valori ne denotano un prodotto di categoria premium. Il prodotto è comprovato biologicamente. VARSEO SMILE TRINIC è fisicamente stabilizzato, questo significa che non crea sedimentazione, può essere integrato e riparato con compositi e cementato con cementi disponibili in commercio. Il prodotto è un dispositivo medico di classe 2A. VARSEO SMILE TRINIC è già convalidato su diversi dispositivi di stampa. La panoramica completa la potete trovare all'indirizzo internet www.bego.com. In questa diapositiva abbiamo il piacere di mostrarvi un caso studio effettuato dall'odontotecnico Alessandro Bonaca della Bonaca Odontotecnici. Vediamo una impronta rilevata con uno scanner intraorale. Il ponte è stato stampato con il materiale VARSEO SMILE TRINIC ed successivamente è stato individualizzato con colori superficiali. È stata effettuata questa opzione in quanto è stato ritenuto non idoneo utilizzare altri tipi di materiali. Il materiale VARSEO SMILE TRINIC si è dimostrato esteticamente integrante nel cavo orale ed gestibile in tutto quello che è stato il flusso di lavoro. Il prodotto è stato testato da diversi laboratori odontotecnici in Europa. Tutti quanti hanno dato un riscontro positivo che si riassume in un'ottima lucidatura, una grande trattucenza, un'ottima tonalità e fedeltà cromatica. Grazie per l'attenzione.